Eccoci con un grande tifoso del Napoli il giorno dopo i festeggiamenti, allora quali sono le tue prime sensazioni a caldo dopo questa grande festa? Ieri sera eravamo a Napoli, credimi è indescrivibile, non te le so spiegare con le parole ma è qualcosa di indescrivibile dopo 33 anni, è un'emozione che l'auguro di vivere a tante persone negli anni. E secondo te la festa per quanto durerà? Almeno fino al 4 giugno, domenica ci sarà una mega festa al San Paolo e poi il 4 giugno la festa finale con l'organizzazione del Comune di Napoli logicamente. Tu ieri eri presente proprio allo stadio di Carmando a Maradona, che area si respirava? Un'area stupenda, lo auguro ripeto per tanti e tanti anni, un'area bellissima a Napoli, soprattutto tanta gente per strada nello stadio si è festeggiata tutta la notte e complimenti anche al Comune di Napoli per l'organizzazione. Se dovessi identificare un unico protagonista di questo Napoli, che nome diresti? Vic Don Rosimeno. Le sensazioni a caldo dopo questo scudetto tanto atteso è finalmente arrivato? Sì, finalmente è arrivato, ammetto che era qualche anno e non ci speravo più per alcune vicissitudini sportive, invece alla fine si è visto che con un progetto sostenibile in ambito economico e sportivo è possibile arrivarci, seppur con tanta fatica. Di questo Napoli, secondo te chi è stato il maggior protagonista? Se puoi delineare il nome di qualche giocatore oppure dirigente, chi indicheresti? Sicuramente è giunto lì perché ha saputo sostituire al meglio vecchi senatori che comunque davano una sorta di garanzia a livello tecnico in campo, con giocatori giovani che avevano fame, che avevano voglia di dimostrare, si sono subito inseriti. Quindi, generalmente quando si fa una campagna acquisti di 5-6 nomi, poi alla fine c'è sempre qualcuno che fa flop, invece quest'anno tutti quanti si sono subito inseriti al meglio. Vabbè, giocatore sicuramente o si man, senza ombra di dubbio trascinatore fino all'ultimo, fino a ieri. E adesso, il 4 giugno, ci sarà la prima azione, ma la festa a Napoli durerà per molto, molto tempo, immagino? Vabbè, a Napoli ovvio che si è famosi per questo, per queste feste molto coincitate, soprattutto perché erano 33 anni che mancava lo scudetto. Poi sì, ovvio che si aspetta il 4 giugno per la festa a livello, diciamo, burocratico del sollevamento del trofeo, però è già iniziata, già da mesi possiamo dire, non con arroganza, ma perché, anche se non c'era ancora la matematica, era chiaro che, diciamo, era difficile perderlo. Erano tantissimi anni che aspettavamo questo momento, è finalmente arrivato. C'è una città in festa, è una regione, province, tutti i napoletani un po' sparsi per il mondo. Come hai festeggiato ieri sera dopo il pareggio ad Udine, però, che ha consentito la matematica vittoria dello scudetto del Napoli? Ebbè, i caroselli da San Marco, dal club fino in piazza, trombette e bandiere. Stiamo raccogliendo un po' i pareri di tutti i napoletani, ma secondo te chi è stato il protagonista principale di questa cavalcata del Napoli? Se puoi definire un dirigente, l'allenatore oppure un giocatore? Ebbè, in primis Giuntoli, ha portato Quara, ha portato tanti campioni, Kim, ebbè, poi Spalletti ci ha messo del suo e i giocatori, in primis Osimen, speriamo che resti a lungo a Napoli. Ed infine, per il 4 giugno, sarei al Diego Armando Maradona? Spero di sì, spero di trovare i biglietti, sicuramente sarò lì, in ogni caso. Tu sei rivenditore ufficiale della Salernitana, però spiegaci un po' l'accaduto. Allora, ti spiego, io sono arrivato stamattina verso le 8 e mezza, e siccome ho questa insegna, diciamo, non è un gran che di insegna, però è attaccata vicino al muro, in cui si dice che io sono rivenditore, trattando io la Zeus, Zeus è l'azienda che veste la Salernitana, io sono rivenditore della Salernitana, a Premetti, il suo tifoso del Torino. Eh, la sapete, ognuno è vero. Però io sono simpatizzato, a me fa piacere che ci siano due squadre campane con delle società così belle, stanno facendo degli ottimi camionati, e mi sono un po' incazzato, in verità. E ho messo anche un post sui social. Devo dire la verità, non più di una mezz'ora fa, mi chiama, mi manda un messaggio a Gerardo Valletta, che è uno dei coordinatori del Napoli Club, e questo ti fa capire veramente che sono soltanto dei balordi quelli che hanno fatto questa cosa. Perché mi ha chiamato e mi ha detto, senti, noi ci scusiamo a nome di tutto il Napoli Club, e ti rifaremo l'insegna e te la riattaccheremo come stava prima. Quindi io, quel disagio iniziale, quella rabbia iniziale, magari ho potuto anche un po' generalizzare, però devo dire la verità, purtroppo, in tutte le tifoserie, che sia Torino, Roma, che sia Juventus, che sia, che ti voglio dire, Lazio, ci sono i cretini, ci sono le persone per bene. Quindi mi faccio, faccio mea colpa, a prescindere pure dal fatto che io abbia detto qualcosa magari dovuto al momento. Però, sinceramente, sono cose che devono finire. Noi dobbiamo essere orgogliosi di essere campani, nonostante io sia il tifoso del Toro. Però io sono contento che il Napoli abbia vinto lo Scudetto, sono contento che la Serenitana abbia una società forte, finalmente, una società che possa stare in serie da tanti anni. E dobbiamo essere solidari, a prescindere che comunque ci sta la rivalità, senza andare mai oltre, rimanendo sempre nei limiti del civile. Questo solo volevo dire.